Amici di Nusef1.it, buonasera e benvenuti al vostro bar virtuale a ruota libera in questa edizione atipica del lunedì sera. Do il benvenuto come al solito a Marco Asfalto. Ciao Marco. Ciao Massimo, ciao a tutti. Stasera volevamo stupirvi con effetti speciali, particolari, ma purtroppo non ce l'avevamo e abbiamo rimediato il semaforino. Anche noi, come vedete, siamo modernissimi. Con led di led. Io questo l'ho pregato a mia figlia, prima che se ne accorga lo rimetto via. L'ho comprato in un negozio dei bambini, però è bellissimo, è fantastico. Fa il suo, fa il suo. Allora Marco, ciao, buonasera, eccoci al nostro bar virtuale. Di lunedì, strano, anche l'orario è un po' strano, tarda serata per noi, almeno le 9-20. Perché siamo qui? Beh, ci sono sicuramente delle notiziole, chiamiamole così, che sono uscite in settimana molto gustose. Ci sarebbe, c'è, no ci sarebbe, c'è da dire, anche per questo siamo qui al punto. Da dove vogliamo cominciare, Marco? La notizia della settimana di David Sanchez, o Davido, come si pronuncia, comunque Sanchez che è stato, vabbè, ufficialmente, diciamo che ha dato le dimissioni. Probabilmente, anzi quasi sicuramente dimissioni forzate, spintarella a dare dimissioni. È stato mandato via, perché, insomma, Massimo, adesso non ti rubo tanto spazio, però, perdono, qui c'è stata fare un paio di due o tre considerazioni. Si va in Bahrain, l'alettone che si muove come una molla, sembra che sono stati sbagliati i calcoli, diciamo, ingegneristici del materiale, eccetera. Ok, poi il musetto si piega sotto la pressione dell'aria, ben due volte se non sbaglio. L'Eclerc che prende i pezzi a destra e a sinistra, insomma, voglio dire, sembrava l'armata Branca Leone, la Ferrari come si è presentata a livello aerodinamico, con tutti questi errori. E poi l'alettone, per fortuna, aspetta, voglio dire, che vibrava, perché metti che poi si stacca a 300 all'ora e non lo so che succede. Niente di buono. Ecco, per cui, voglio dire, forse era il caso di prendere dei provvedimenti seri, insomma, dai, come si fa a dire che uno ha dato le dimissioni dopo che ci sono stati gli antefatti? L'antefatto è quello, è quello che è accaduto. Ti faccio una domanda trabocchetto, visto che non te l'ho detto prima. Secondo te, se ci fosse stato Binotto, sarebbe saltata sta testa? No, Binotto, secondo me, avrebbe semplicemente detto che stanno studiando il problema, stiamo cercando di capire. In fondo si tratta solo di capire che ci servivano altri 2 milioni di euro, come dice Crozza, o altri 4 milioni di euro. Quindi probabilmente saremmo qui adesso a studiare il problema, a vedere il problema, bisogna avere pazienza e dobbiamo capire, dobbiamo capire, dobbiamo capire. E quindi magari il Napoleone della Ferrari ci ha capito probabilmente che ci sono dei personaggi che forse hanno sottovalutato il proprio lavoro. Magari sì, certo Sanchez paga per tutti, ma del resto se è a capo del progetto, se è a capo degli aerodinamici, non è che salta l'ultimo, salta chi in teoria prende di più, chi ci mette la faccia, chi firma il progetto, chiamiamolo così, o comunque chi ha più responsabilità nella catena di montaggio, anzi, non la catena di montaggio, nella scala di comando. È comunque a tutti gli effetti un fulmine a ciel sereno, perché ok che la Ferrari ha deluso ampiamente in Bahrain, però onestamente Marco credo che nessuno avrebbe scommesso una lira su questa testa che poi rotolava nel rientro dal Bahrain fuori da Maranelli, o sbaglio? No, nessuno ci avrebbe scommesso, però come ho detto poc'anzi, nessuno avrebbe pensato che la Ferrari si presentava davvero con tutte queste vecchie, ripeto, a livello aerodinamico. Qui non è neanche in discussione, in questo caso, la prestazione della vettura, cioè comunque sbagliare i materiali, o comunque i calcoli, far saltare via dei pezzi, non è una cosa ammissibile, tra le altre cose è pericoloso. Però sicuramente. Nessuno se l'aspettava, però questo evidentemente non è solo mandar via, ricordiamoci che il pesce puzza sempre dalla testa, quindi mandar via chi è il capo nella piramide gerarchica, per esempio nel nostro settore. È arrivato adesso, è il capo capo. Eh, appunto, però questo è un segnale, evidentemente, non è solo allontanare una persona che evidentemente non è stata in grado... Marco, punirne uno per educarmi 100, chiamola così. Sì, probabilmente, evidentemente Vassero ha capito che da adesso non si gioca più, non siamo più amici, se va al bar a bere, come si dice, a taralluce e vino, ma da adesso in poi ci sta una disciplina e c'è chi ha il coraggio di prendere decisioni dure, anche nel breve, brevissimo tempo. E questo è importantissimo, perché se l'avesse fatto fra un mese sarebbe stato diverso. Sicuramente sì, avrebbe sicuramente sortito effetti diversi anche a livelli comunicativi e di impatto anche con gli altri dipendenti, insomma. Esatto. Lascia un po' pensare questa mossa, perché chiaramente al momento il posto che ricopriva Sanchez chiaramente è vagante. Poi ricordiamo sempre che non è possibile, cioè si dovrà promuovere qualcuno, si dovrà mettere qualcuno all'interno, perché poi non si possono prendere così dall'oggi al domani, come si faceva almeno una volta, tecnici e da altri team che se ne dica. Lo stesso Sanchez, si legge adesso, ci sono alcune notizie che parrebbe destinato alla McLaren, ma anche qualora così fosse, non prima del 2024, il McLaren non può metterci piedi, sempre per il discorso del Gardening Live, che lo ricordiamo velocemente, non trattasi di giardinaggio, ma è semplicemente una sospensione, ok, del dipendente, con un licenziamento, una sospensione, che continuerà a ricevere l'auto bonifico da Maranello, non si occuperà più di nulla all'interno della Ferrari, né tantomeno potrà in nessun modo in questo anno, in questa stagione, accasarsi presso altre scuderie, proprio per questo motivo. Cioè, sostanzialmente viene un po' messo in quarantena, mettiamola così, vattene a casa, stai a casa, fai quello che vuoi, fai giardinaggio, fai in bunta un bike, ecco di soldi, ecco di l'assegno a fine mese, il bonifico a fine mese, però tu da qui al 2024 non fai nulla relativo a Formula 1 o altri team, né con noi, soprattutto non con noi, ma neanche con gli altri team. Quindi c'è un po' anche di curiosità su chi potrà ricoprire questo ruolo, che effettivamente da qualche anno, correggimi se sbaglio, non trova pace. No, allora, dunque, la Ferrari a livello aerodinamico non trova pace ormai da, non so, penso almeno dieci anni, perché se torniamo indietro nel tempo, e qui faccio una parentesi, se qualcuno si ricorda l'inizio dell'epoca ibrida, con la Ferrari, la F14T, quando i due tecnici, Pat Frye e Tom Basis, pretesero, tra virgolette, o almeno questo era quello che si diceva, una vettura, una power unit piccola, perché loro avrebbero fatto una macchina fantasmagorica a livello aerodinamico. Poi si è visto che fine ha fatto questa Ferrari e la crisi che poi ne è scaturita negli anni a venire, perché la Ferrari è partita già male, perché voleva fare chissà quale tipo di macchina aerodinamicamente efficiente, invece non l'ha fatta. Quindi questo è un problema che se lo trascina presso la Ferrari da un bel po' di tempo. Per quanto riguarda il discorso delle soluzioni interne che ci possono essere, probabilmente ce ne sono, anche in Ferrari ci lavorano due persone, quindi ce ne sono centinaia di persone e sicuramente Sanchez aveva dei collaboratori con cui lavorava insieme, ovviamente, e con cui scambiava idee. Quindi io penso che non ci sia a questo punto l'emergenza per questo momento, in questo periodo. Chiaro è che la Ferrari ha bisogno di alcuni nomi di spicco, quindi di andare a fare mercato, andare ad acquistare, fare shopping presso dalle altre squadre, squadre vincenti, chiaramente, il Red Bull e il Mercedes. Marco, diciamolo, non c'è niente di male, funziona sempre così, si cerca sempre di prendere il più forte, il migliore, il più bravo, posto che Neway è fuori dalla nostra portata, uno perché non è detto che tutti i talenti nascono in casa, no? Ci sarà sicuramente personale validissimo a Maranello, però si può andare a prendere uno già pronto con esperienza in gamba, valido, con dei mondiali sulle spalle, non è Neway, sarà un altro nome, però non ci vedo, insomma, assolutamente nulla di male. Non è né più né meno che il calcio mercato, stesso concetto. Sì, ma questo è normalissimo, come nel calcio, gli allenatori e i calciatori vengono comprati, scambiati, non è quello il punto, il punto è che servirebbe qualcuno che magari dia anche un'impostazione sul metodo di lavoro, ad esempio del Red Bull. Andare a pescare il Red Bull non significa necessariamente prendere Neway, ma prendere qualcuno che conosce il metodo di lavoro e che lo possa poi portare a Maranello, visto che con l'aerodinamica, ripeto, la crisi ormai è di vecchia data, risale perlomeno a 2014 e quindi lì è un problema da risolvere. Per quanto riguarda quel discorso di Vassur, che probabilmente si è sentito anche tradito, come si è sentito tradito probabilmente anche Benedetto Vigna, perché Benedetto Vigna, se non sbaglio, alla vigilia o al giorno stesso della presentazione della macchina, l'SF23, ha detto che questa Ferrari non avrà precedenti in termini di velocità, l'avevamo già detto in tante semissione, ti ricordi? Esattamente. Ora, a Vigna, chi gliel'ha detto questo? Non penso che Vigna arriva la mattina e dice adesso, vedi con tutti i giornalisti che ci avremo una macchina fantastica, qualcuno gliel'avrà detto, no? Quindi, qualcuno è probabilmente il nostro ormai strannominato Binotto, immagino, cioè Binotto avrà dato, quando ha dato il passaggio di consegne, attenzione. Ragazzi, la macchina è fantastica. Esatto, visto che ci lavoriamo dall'estate scorsa, sarà una macchina meravigliosa, sarà una macchina veloce, e Benedetto Vigna chiaramente si fida del suo dirigente, quindi del suo team principal. Quindi, voglio dire, cosa doveva dire? Penso che Vasseur e Vigna, ma Vasseur è quello che ricopre l'incarico di dover poi dirigere, quindi ha cacciato Sanchez, penso che si siano sentiti traditi. Traditi proprio interiormente, cioè qui, quando vai in pista, perdi i pezzi, sei lento, sei lento di sette... Allora, hai rallentato... Io ho scritto un articolo qualche giorno fa, con delle grafiche, in cui si dimostra che, prendendo in esame Leclerc, che praticamente la Ferrari ha rallentato di 0,14 decimi come prestazioni in Bahrain, e invece la Red Bull di quasi 8 decimi. Allora, no, guarda, questa è un'altra grafica, questa riguarda, se vogliamo, perché quelle grafiche che ho fatto sono state, diciamo, prese da qualcun altro, ma sorvoliamo su questo. Visto che l'ha presentata, Salvatore, possiamo parlare di questo, Massimo? Allora, qui io, siccome si parla molto di science, sempre... Dimmi, dimmi, Massimo, scusami, sto monopolizzando. No, 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 tranquillo, salvo prima delle grafiche curate da... dei grafici, anzi, non più che delle grafici, curate da Marco. Così, volevo buttarla un po' lì, no? Perché poi la cacciata di Sanchez ha dato il là alla solita shitstorm, alla solita clickbait, alla solita notizia frivola, fake news, o chiamamola alla romana, come vi pare, perché adesso è... all'interno di Maranello, cioè, è un vulcano pronto ad esplodere, se ne va quello, cacciano Mekis, Mekis, non ho mai capito come si chiama, Vassero è incazzato con Vigna, quello non parla con quell'altro, quello si mette all'angolo e sta zitto. Cioè, adesso si è passati da... dal paradiso rose e fiori di Binotte, in cui siamo arrivati ultimi, damose una pacca, volemose bene, a una debacle, che comunque è pesante, in Bahrain, ma siamo ancora prima del campionato, con Vassero, che prende e caccia mezza scuderia. A me sembra francamente la solita esagerazione dei giornali e giornalai di casa nostra. Non è che è tutto rose e fiori, come era con Binotte, ma adesso che si sia scatenato l'inferno così all'improvviso mi sembra quantomeno esagerato. No, ma ne è pieno. Hamilton, che verrà scambiato a fine anno con Leclerc, con Leclerc, e se dovesse accadere sarà solamente perché portate denaro, perché non è che ti va a prendere un pilota dei 40 anni e lasci Leclerc. Poi aspetta, Leclerc che va a parlare con Elkan per avere rassicurazioni, cioè direttamente, quindi, chiaramente adesso questo ha scatenato tutta una serie di gossip, perché per carità, poi, se uno, sì, ma se uno ne spara 20, no, sicuramente su una magari ci azzecca pure, perché, voglio dire, è la legge delle statistiche, delle probabilità, quindi può essere pure, non è che nessuno dice niente. Poi, che altro c'era? Perché ce n'era qualcun'altra che avevo sentito. Marco, in questa settimana, dopo che è saltato Sanchez, hanno scoperto proprio il vaso di Pandoa. Ah, ecco, aspetta, aspetta, questa, la Ferrari, che è una squadra ormai ridimensionata e che ha un budget specifico, ma quello c'hanno tutti, perché c'è budget cup, è diventata una squadretta e quindi deve puntare su Sainz per forza, perché porta i soldi di Sant'Andrea. Della banca, esatto, sì, no, deve puntare su Sainz, quindi deve mettere da una parte le clerk. Marco, tagliamo la testa a toro. Non so più che dire. Tagliamo la testa a toro. I soliti giornalai prima della gara in Bahrain avevano scritto il clerk preoccupato perché la F1, sì, la F1 75, vabbè, la F1 75, la F1 75, la F1 75, la F1, la F1, l'ora è stata sviluppata per Sainz, 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 ora io dico che Sainz sia un buonissimo pilota, come ce ne possono stare magari anche altri o magari un po' più forte, nessuno lo mette in dubbio, che sia capace di fare il suo lavoro, nessuno lo mette in dubbio, ma se gli fanno una macchina apposta per quanto schifo possa fare e poi in gara si becca l'inimmaginabile dalle clerk, non dico dalle Red Bull perché ci sta, ma se tu te lo, se ti fanno una macchina apposta e poi ti becchi 8 decimi al giro dalle clerk, beh, io caccio te, la banca, tu padre, come il Marchese del Grillo, caccio te, tu padre e tu nonno, cioè voglio dire, eppure chi ti ha fatto la macchina, fanno ride Marco, fanno ride, a proposito di questo io ho fatto un, ho fatto queste, queste semplici, queste semplici grafiche che adesso se ne puoi mandare, perché dunque sono elementari ma comunque si va a capire una certa cosa, ora la differenza, ricordiamoci una cosa, in Bahrain sia nel 2023 che nel 2022 Sainz è partito con le gomme usate e invece le clerk è partito con le gomme nuove e questo non è un vantaggio da poco soprattutto i primi due, tre giri dopo il quarto, esatto, dopo il quarto, quinto giro teoricamente non, le prestazioni non si appiattiscono non si equivalgono ma tuttavia la differenza dovrebbe essere poca invece non è così qui abbiamo a un certo punto anche nel 2022 abbiamo dei momenti in cui Sainz prende un distacco una differenza che va dai 3 ai 9 decimi in alcuni momenti basta guardare l'ultimo giro l'ultimo giro del grafico c'è un secondo 9 decimi e un secondo pieno esatto e la media sta intorno ai 4 decimi quindi vero ripeto che partiva con le gomme usurate comunque le gomme che hanno fatto quei 2-3 giri per fare diciamo le qualifiche però c'è una differenza una netta differenza tra due piloti insomma dai quei 2 decimi a giro che ha si dice il campione rispetto al pilota normale e Salvatore ma fa vedere anche quella del 2022 che è quell'altra in cui si vede che su per giù c'è comunque una differenza quasi simile anzi addirittura forse in alcuni momenti ce n'è anche di più ecco come si vede Leclerc è quello in blu e Sainz è quella striscia quella arancione quindi diciamo che qui c'è poco da dire che gli è stata cucita la macchina addosso e poi nel 2023 prende lo stesso scatto su per giù che ha preso nel 2022 qui era il discorso di questi due semplici grafici per capirci che non è cambiato nulla Leclerc è più veloce punto tra l'altro in questi grafici del 2022 si può notare come i grafici salgano insieme cioè all'aumentare dell'usura va ad aumentare l'uptime che era classico ovviamente se invece salvo rimetti quello del 2023 è vero che abbiamo detto che partiva con una gomma nuova Leclerc però dopo il quarto giro Leclerc si va a stabilizzare fino all'ottavo giro Leclerc è un orologio lento se vogliamo ma è un orologio Sainz invece già dal quarto giro comincia a salire l'uptime comincia a salire fino al 45 del dodicesimo quindi insomma c'è veramente poco da poco da dire poi ripeto nessuno qui tira la croce addosso a Sainz perché l'anno scorso siamo stati massacrati per questo semplicemente un dato statistico quando si parla di dati ragazzi sono dati oggettivi non c'è mai nulla di soggettivo in questo questi sono dei dati ufficiali che si possono recuperare chiaro che ma noi lo stiamo dicendo in difesa di Sainz perché noi siamo i primi a non credere all'ennesima bufala della SF23 fatta a pennello cucita come un per Sainz quindi questo lascia un po' il tempo che trova vedremo poi che cosa che cosa che cosa succederà da qui a Jedda se magari già verrà nominato anche ufficialmente sicuramente c'è qualcuno che avrà preso il posto di Sainz vedremo se verrà reso noto però Marco se non ricordo male c'è sempre una figura vacante non da poco più del più del del capo degli aerodinamici no? sbaglio o manca ancora un direttore tecnico a a Maranelli non mi sembra una cosa normale francamente ora dunque quello che che sta accadendo chiaramente non potrà portare dei vantaggi o perlomeno questo a rigor di logica perché poi non sappiamo esattamente come come può essere il tutto perché potrebbe anche esserci una reazione all'interno di una squadra attenzione io non posso non voglio assolutamente far paragoni col calcio sport che tra le altre cose io seguo pochissimo però siccome è lo sport nazionale poi ci sono delle squadre che è vero che forse nel calcio per certi versi è più facile che c'è l'agonismo quindi c'è il contatto diretto con l'avversario però ci potrebbe anche essere una sorta di reazione all'interno della squadra uno scatto d'orgoglio un modo d'orgoglio sì un rigurgito d'orgoglio un rigurgito d'orgoglio esatto però perché sì come dice giustamente tu Marco scusa e poi magari nel calcio negli altri sport è più facile perché non c'è la componente tecnica o meglio c'è ma 11 contro 11 11 incazzati cattivi 11 leoni sporchi brutti e cattivi possono comunque giocarsela con 11 fenomeni e quando andiamo in formula 1 magari sì il team ha una reazione d'orgoglio si lavora meglio da bene però se il distacca è quello è lunga la caramella stai bene a avere scatti d'orgoglio però sicuramente qualcosa Marco a qualcosa porterà sta cacciata cosa ce lo dirà ce lo dirà allora sì quello che stavo dicendo è che chiaramente non è che ci può essere nel giro di di una gara due gare può darsi che invece questo rigurgito come tu l'hai chiamato eh possa diciamo avere un senso eh diciamo più in là nella stagione quando si arriva in Europa perché magari eh le idee che sono state attenzione non si può stravolgere una macchina però qualche piccola idea che è stata accantonata o qualcuno che è stato messo da parte magari adesso finalmente può parlare può fare può fare il suo non lo sappiamo il discorso di Sanchez è un po' come noi abbiamo parlato dei baroni ti ricordi? quindi abbiamo quasi anticipato no? non abbiamo detto che sarebbe stato cacciato qualcuno però no questa era l'idea di fondo è come se fosse stato mandato via il classico barone che sta lì e ripeto nessuno dice nulla sono dei professionisti questi però quando i risultati sono questi le persone devono essere in qualche modo qualcuno deve pagare ragazzi l'abbiamo chiesto tutti a gran voce la scorsa stagione tutti col fucile puntato sul binotto non caccia nessuno non cambia nessuno è arrivato sarà un caso è arrivato Vassero è il primo a fare le valigie e tornare a casa c'è stato ora vediamo un altro certo però Marco mettiamo vediamola dal tifoso medio come la vedrebbe il tifoso medio comunque il signor X sì effettivamente poi allora ufficialmente Sanchez si è dimesso ok poi come abbiamo detto noi molto probabilmente ragionandoci è stato anche un po' forzato però di fatto questo cambia un po' le cose non sposta l'ago della bilancia però un conto è se effettivamente come poi è stato riportato da altri tanti giornalai dramma Ferrari si dimette scappa via il responsabile team il capo team dell'aerodinamica un conto è se uno prende e se ne va un conto è se uno sopra di te ti dice ok vai quella è la porta non ci serve più quale che sia il motivo cioè è anche una in un certo senso è una prova di forza da parte del direttore del team principal o di chi ha preso la decisione o no perché un conto è se uno se ne va ti lascia un po' in mutande spiazzato magari non se lo aspettavano ma se nella realtà dei fatti è stato gentilmente accompagnato diciamo così all'uscita per firmare le dimissioni beh comunque la sostanza cambia almeno dietro le quinte cioè vuol dire non ci servi facciamo bene anche senza di te o no allora nell'epoca dopo Enzo Ferrari quindi diciamo dopo l'88 dopo l'88 francamente io non ricordo nella scudoria di Formula 1 licenziamenti a me non sembra proprio di ricordarne neppure uno ricordo semmai dimissioni o prostimi forse però sì ecco tu magari hai una memoria migliore della mia però per far ridere hanno cacciato il pilota però voglio dire in fondo ecco una volta però la politica è sempre stata quella che le persone che vanno via vengono gentilmente allontanate o semplicemente trovano un altro un altro lavoro dove sono più soddisfatti e quando noi prima parlavamo dei baroni qui dobbiamo pure capire che tutti questi personaggi qua che sono comunque che hanno dei ruoli importanti non sono personaggi che prendono 1200 euro al mese cioè la paga a base voglio dire questi sono personaggi che alla Ferrari costano e costano tanto più in termini anche di immagine quando succede quello che è successo in Bahrain voglio dire la Ferrari non è questo che tanti noi tante persone non riescono a comprendere la Ferrari è un produttore d'automobili non è solo una squadra di Formula 1 la Red Bull ultimamente forse è più produttore di automobili che una squadra di Formula 1 che una squadra di Formula 1 questo probabilmente sì la domenica vanno a girare la Ferrari deve deve il fatto che il reparto auto chiamiamolo così automotivi a parte la Formula 1 e a parte la GS scusa la GS le macchine le vende tantissime fa un enorme fatturato e si parla come già avevo detto qualche puntata fa che solamente la purosangue potrà generare intorno a 2 miliardi e mezzo di fatturato cioè 2 miliardi e mezzo con un solo veicolo d'elite tra le altre cose quindi tanti lo dimenticano la Ferrari è diventata quello che è proprio perché corre ma oggi ha anche un altro tipo di situazione quindi a livello proprio economico di gestione ha tutto questo e fa una figuraccia terribile continua a stare in Formula 1 non vince da tanto tempo però finché non vinci ci può anche stare che non vinci ma quando cominci a perdere i pezzi cioè francamente guarda è inammissibile tu nessuno l'ha presa veramente su serio questa cosa perché noi abbiamo rielencato queste tre cose che sono accadute quindi l'alettone la posteriore il monopilone quel bozzo lì che si è fatto l'accidimento della parte del musetto e i pezzi che ha perso le cariche ma è gravissimo cioè è gravissimo non solo è grave anche come immagine non ti puoi presentare così all'inizio della stagione ma stiamo scherzando non con dopo che hai fatto poi dei test la settimana prima cioè è inammissibile cose del genere è chiaro che Basser doveva prendere i provvedimenti cosa doveva fare dargli il buffetto continua non so direi continua puoi stare qua guadagnare il tuo milione di euro all'anno non so quanto guadagna a parte che volendo i bilanci si possono andare a vedere che poi ci leveremo no aspetta ci toglieremo anche sta curiosità lo dico per la concorrenza così lo fanno prima loro e mi tolgono la fatica ci tolgono la fatica ricordiamoci poi che credo se non vado errato scusate se dico una vaccata ma l'ora è tarda che a non incidere sul budget cap siano esclusivamente i gli stipendi dei piloti mentre quelli dell'entourage dei tecnici credo che finiscano all'interno sempre del calderone dei famosi 140 quanti hanno 125 127 o no si sembra anche a me che sia così non me lo sono studiato perfettamente però mi sembra che sia così tra le altre cose se ti ricordi la Red Bull l'anno scorso dopo che ha sporato ha detto anche che è stato uno del personale non so chi una persona credo sia un ingegnere hanno speso un milione di euro per una cura cardiaca che ha fatto questo personaggio quindi evidentemente ci rientrano rientrano anche tutti gli stipendi e tutto il resto quindi vabbè del resto scusami se ci entra il catering come ci fa a non entrare lo stipendio dei tecnici voglio dire assolutamente stipendio dei piloti a parte perché i piloti guadagnano cifre diverse è anche corretto anche se in una visione un po' più ampia decubertiana magari volendo uno potrebbe dire ok con un po' come un NBA è il pilota più forte che prende di più e allora ti va un po' intaccato ma qui andiamo già questa non è Formula 1 figura di top allora ci sono un po' di commenti Marco magari possiamo rispondere così poi chiudiamo già sulla trentina salvatore biancardo ciao salvo intanto l'uscita di sanchez dalla ferrari secondo me è un bene visto che non ha prodotto vetture vincente in questa in ferrari bisogna sostituirlo con uno bravo anche se le scelte sono poche sostanzialmente è quello che abbiamo poi detto vediamo chi lo sostituisce a Cardia gli rinnoveranno il contratto boh salvo buona domanda si parla anche di questo ma francamente è in scadenza ma chi lo sa Fabio Canneva ciao Fabio era prevedibile che dopo Binotto se ne andassero in tanti aveva creato un bel gruppo di fedelissimi lo avevo già messo in preventivo beh oddio qui siamo come dicevamo prima se ne andassero no forse venissero cacciati il termine il termine giusto perché se è vero quello che insomma si dice un po' così a mezza bocca che non è che se ne sia andato Sanchez però ecco scusi per rispondere sì però guarda caso è andato via proprio dopo la prima gara del Bahrain in cui la macchina perdeva i pezzi molto strano stranissimo e c'era un altro commento sì ripeschiamo Aldo Costa sì Massimo omonimo d'accordo è stato mandato via pure in malo modo perfettamente d'accordo Aldo Costa concordo di nuovo Fabio chiedo a voi Birn collaboro ancora con Ferrari nonostante l'età io rivolgo il greco ne avrà di segreti nelle tasche il greco sarebbe Tombasis Tombasis eh no Tombasis ha segreti perché lui adesso lavora nella FIA quindi prima è andato a spifferare tutte le cose della Ferrari alla FIA in modo tale che lo sapessero gli altri adesso ce li riprendiamo così che egli non puoi non possa dire nulla sugli altri perché non dirà nulla se torna mio modesto parere visto il personaggio assolutamente Elkan è una è una schenazzita sì vabbè Fabio non so quanto possa essere importante una cosa del genere francamente Salvatore Elkan dichiarò che la Ferrari avrebbe vinto il mondiale nel 2026 figurati in mano a chi sta la Ferrari vabbè ma che Elkan capisca poco di Formula 1 non lo scopriamo di certo non mi sembra che pure di calcio non è che navigano nell'oro no Salvatore di nuovo speriamo che nel WEC la Ferrari ci dà qualche soddisfazione vero 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 sicuramente lì potremmo avere qualche possibilità speriamo assolutamente speriamo c'è qualche altro commento Salvo no di nuovo Salvatore poi la figura di dell'affidabilità eh sì ce lo siamo detto e ridette anche questo eccolo qua e lì è stato lì è stato un sembra che sembra che sia insomma leggendo in giro per le varie testate c'è stato un problema d'assemblaggio che insomma lascia il tempo che trovo perché teoricamente dovrebbe essere tutto ormai sistemizzato però assolutamente può pure capitare eh sì può capitare ma stai vedendo qualche altro commento sì stavo cercando qualche altro commento ma mi sa che ci sono no sono sono finiti tutti dai ok ragazzi Marco diciamo che siamo stati anche bravi 31 minuti di sproloqui quindi siamo siamo rientrati nel nel target siamo riusciti a parlare un po' italiano perché a volte ci dicono voi non utilizzate un linguaggio corretto ecco ecco il qua di solito sono io che mi semaforo rosso per me eccolo qua acceso aspetta eccolo qua i led aspetta come sta accendendo ecco è già acceso anzi fammelo spengere che sennò aspetta che è giallo bisogna correre pronti dai 5-7 secondi luce verde via allora ragazzi che dire grazie della compagnia anche in quest'ora tarda in questo giorno inusuale per noi grazie Marco ovviamente per la compagnia per le chiacchiere molto molto interessanti grazie Massimo grazie a voi come dico sempre io che avete la pazienza di guardarci di ascoltarci di ascoltarci grazie ovviamente a chi è intervenuto e a chi ci ha seguito noi ci vediamo domenica a post GP di Jedda speriamo con facce un po' più allegre di quelle di domenica scorsa adesso non so che orario è poi ci organizziamo per la diretta ma lo sapete che tanto dopo 10-15 minuti a botta non calda di più siamo qui a raccontare e parlare con voi di quello che è successo in gara e perché no anche fuori di nuovo ragazzi buona serata a tutti ciao Marco e grazie salvo dalla regia alla prossima buonanotte ciao ciao a tutti